Spero che questa sia proprio l'estate giusta per rimanere in Italia e riscoprire degli angoli che forse abbiamo un po' trascurato. In cima alla mia lista c'è sicuramente Otranto e spero di tornarci presto. Se dovessi sintetizzare Otranto in poche parole direi che è una città che accoglie, sempre, quindi venite a Otranto, anzi andiamo a Otranto, sono sicura che non ce ne pentiremo. È un posto incantevole Otranto. Mi sa che ci dobbiamo tornare. Quanto prima ci dobbiamo tornare. E allora ci vediamo tutti quanti a Otranto. 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 Otranto.